Grazie, grazie Presidente. Io esprimo apprezzamento per le capacità e l'ascolto che c'è stato in Commissione, il Vice Ministro e anche il Relatore, però francamente non credo che si tratti di una pagina storica, come ha detto il Relatore, per il nostro sistema fiscale. La proposta di riforma, la proposta di delega del Governo, alla fine si è tradotta in un insieme un po' contraddittorio di principi, principi che tutti tra l'altro condividiamo perché vengono enunciati l'equità orizzontale, che sarebbe il principio in base al quale ciascuno in base al reddito e alla sua capacità reddituale dovrebbe pagare la stessa imposta. Si è enunciata l'equità, il principio di equità verticale che sarebbe il principio costituzionale della progressività dell'imposta, due principi molto importanti. Si evoca la semplificazione, la evochiamo da anni e poi proprio la classe politica, noi siamo i maggiori colpevoli perché ad ogni provvedimento invece rendiamo ancora più complesso il nostro sistema fiscale attraverso quelle che sono le tax expenditures. Si evoca, è stato evocato anche prima dal relatore, il contrasto all'evasione fiscale ma poi si creano e si introducono nuove scappatoie per chi ha omesso di dichiarare o omesso di versare le imposte. Ma questi sono principi condivisibili, il problema è che sono in contraddizione con quello che poi c'è nella delega, con quello che è poi il testo, sull'equità orizzontale ciascuno dovrebbe pagare la stessa imposta a parità di reddito. Però abbiamo assistito ad una esplosione di imposte sostitutive dell'imposta principale che è l'IRPEF, che è l'imposta progressiva, per cui ci troviamo con gravi iniquità, differenze sulle imposte pagate non soltanto tra categorie di reddito diverse, quindi ad esempio tra lavoratori dipendenti che sono gli unici praticamente insieme ai pensionati che pagano l'IRPEF e lavoratori autonomi, ma anche all'interno della categoria di reddito del lavoro autonomo, ci sono differenze di pagamento di imposta enormi, c'è chi può accedere alla quella che viene definita la mini flat tax e il regime forfettario, che esiste da tanti anni, non è insomma la flat tax, comunque gravi differenze tra chi aderisce al regime forfettario ad esempio e chi invece non può aderire perché magari ha assunto personale dipendente e quindi è soggettato al regime IRPEF ordinario, paga l'IVA, paga l'IRAP, compila i vecchi studi di settore che adesso si chiamano ISA, quindi in realtà l'equità orizzontale attualmente non esiste e nella delega non solo non si va verso l'equità orizzontale ma ci si allontana dall'equità orizzontale perché alle imposte sostitutive già esistenti se ne aggiungono tantissime altre. L'equità verticale, il principio di progressività, anche questo è legato all'esplosione delle imposte sostitutive e l'effetto di questa esplosione delle imposte sostitutive che sono destinate praticamente a tutti tranne che ai lavoratori dipendenti e ai pensionati fa sì che il principio di progressività salti. Ma l'effetto di questo tra l'altro va in senso opposto a qualsiasi obiettivo ci si è prefissi sulla riforma fiscale perché la destra ha sempre proposto la flat tax, è un parere, un'opinione, un atteggiamento diverso rispetto al nostro però si è insomma sempre connotata per aver proposto la flat tax che non esiste comunque in questa delega perché c'è soltanto il riferimento ma è sparita dalla proposta del governo però ha sempre parlato di flat tax anche in ottica di semplificazione mentre noi ci siamo sempre ispirati al principio di progressività in ottica di equità orizzontale però qua si è riusciti a mettere insieme i difetti di entrambi i sistemi di imposizione quindi se praticamente si è arrivati a un'enorme complessità e si arriverà a un'enorme complessità del sistema fiscale perché ci saranno tantissime aliquote sostitutive tutte diverse quindi ci saranno microtipologie di reddito per cui sarà difficile per il contribuente per il suo consulente determinare anche preventivamente quello che sarà il reddito e le imposte da pagare viene abbandonato comunque il principio di progressività dell'imposta perché ci saranno tutta una serie di imposte piatte. Si evoca la lotta all'evasione fiscale il contrasto all'evasione fiscale spesso nei vari dibattiti si parla di evasione di necessità con questo facendo riferimento a quei piccoli contribuenti alle partite IVA, alle micro imprese che affrontano oggettivamente enormi difficoltà soprattutto dal punto di vista burocratico e una pressione fiscale spesso insostenibile. Però anziché affrontare il problema come si dovrebbe affrontare e cioè riducendo la pressione fiscale nei confronti di questi soggetti e semplificando la vita fiscale di questi soggetti in realtà si promette a questi soggetti di fatto un condono, un concordato preventivo che sarebbe di fatto un condono preventivo, inducendo in qualche modo all'evasione fiscale quindi questi soggetti faranno affidamento sulla possibilità di ridurre l'importo dovuto allo Stato non solo in termini di sanzioni di interessi ma spesso anche di imposta ma di fatto non ci sarà una riduzione di pressione fiscale e anche le proposte del Governo come il concordato preventivo, questo lo leggiamo dalla stampa di un paio di giorni fa, in realtà si tradurrà molto probabilmente in un invito all'adesione ai risultati dei vecchi studi di settore, cioè una cosa che già esiste, adesso si chiamano ISA, questo perché? Perché l'amministrazione finanziaria non è in grado di raggiungere accordi con milioni di partite IVA e quindi alla fine si utilizzeranno gli strumenti già esistenti che sono i modelli ISA, i studi di settore che sono strumenti presuntivi di reddito che vengono compilati dalle partite IVA e a seguito di questa compilazione c'è un reddito presunto, quindi si utilizzeranno questi strumenti per invitare il contribuente all'adesione, quindi si farà quello che si fa già da vent'anni, tra l'altro con strumenti che sono non solo vecchi ma dovrebbero considerarsi superati perché ormai con la tecnologia esistente, con la possibilità di interoperabilità delle banche d'atti, l'amministrazione finanziaria potrebbe essere già in grado di proporre ad esempio un reddito presunto alle piccole partite IVA senza costringerli a compilare e ad affrontare questi adempimenti che spesso creano difficoltà soprattutto ai professionisti che li assistono. quindi in realtà la lotta all'evasione si traduce in questa proposta in promesse di condono e di fatto il principio è questo, ma la lotta all'evasione, il contrasto all'evasione, chi ha lavorato nelle imprese, chi ha assistito le imprese come professionista sa benissimo che gli strumenti per contrastare l'evasione fiscale in realtà sono pochi e sono molto semplici, lo strumento principale è l'eliminazione dell'uso del contante perché il contante è uno strumento che ti consente di occultare i redditi, quindi se si elimina l'utilizzo del contante si riesce davvero a contrastare l'evasione, ovviamente questo deve essere accompagnato a una drastica riduzione, a un abbattimento della pressione fiscale, ma in questo caso l'abbattimento è possibile perché con l'eliminazione dell'uso del contante e quindi con la conseguente eliminazione dell'evasione per chi si arriva alla quasi eliminazione dell'evasione fiscale a quel punto si consente allo Stato anche di abbattere la pressione fiscale e si ha anche maggiori giustizia fiscale perché il problema delle imprese di cui tanto parla il centro-destra spesso è la pressione fiscale non rilevata, non rilevata dal punto di vista statistico perché gli adempimenti e le imposte e i contributi sono tali e tanti che spesso sfugge quello che è l'esatta misura della pressione fiscale delle piccole partite IVA, mentre con l'utilizzo della tecnologia, con la tracciabilità di tutti i movimenti, con l'eliminazione del contante si riesce anche a stabilire quello che è l'esatto importo guadagnato dalla partita IVA e in quel caso si capisce benissimo che la pressione fiscale è insostenibile e si può quindi procedere con dati però oggettivi e non presuntivi all'abbattimento della pressione fiscale. Come si riduce anche la pressione fiscale? Si riduce cercando nuove fonti di reddito da soggettare di imposizione, nuove fonti di ricchezza e quindi un'altra grave lacuna che noi abbiamo rilevato dall'inizio dell'esame di questa proposta è proprio questa, non si cercano nuove fonti di reddito ed imposte che in realtà ci sono e sono sotto gli occhi di tutti perché tutti partecipiamo alla creazione di queste fonti di reddito, di questi redditi e di questi valori. Ed è l'economia digitale. Ciascuno di noi ogni giorno quando prende in mano il cellulare fornisce a imprese, alle grandi imprese del web, dei dati che costituiscono per queste grandi imprese materia prima a tutti gli effetti perché queste imprese per carità legittimamente utilizzano i nostri dati per fare profilazioni di massa e cedere quello che è poi il prodotto di queste profilazioni. È tutto legittimo, è il progresso e la tecnologia è inarrestabile. Però quello che abbiamo chiesto noi dall'inizio, vogliamo ragionare sul fatto che forse dovremmo cambiare un po' paradigma rispetto a quella che è l'imposizione fiscale come l'abbiamo sempre considerata. Cioè esistono nuove forme di creazione di valore a cui tutti noi partecipiamo. I nostri dati hanno un valore. In cambio dei nostri dati queste imprese ci forniscono dei servizi. Per fare un esempio molto banale, la Guardia di Finanza, lo sapete tutti, mesi fa ha compiuto un accertamento nei confronti di Facebook perché ha considerato questo scambio dei nostri dati contro i loro servizi come una permuta imponibile e finiva tutti gli effetti. Ma questo è l'effetto più semplice. Il discorso è che i dati hanno un valore e nessuno in realtà ci rimborsa di questo valore, nessuno ci dà il corrispettivo di questo valore che è un nostro valore. Quindi quello che abbiamo chiesto noi è iniziamo a ragionare su quello che è il valore dei dati. Proviamo a vedere che uso se ne fa di questi dati. Noi abbiamo proposto l'istituzione di un registro dei dati in modo tale che ciascun contribuente sappia a chi cede i propri dati e che uso fa chi ha acquisito questi dati appunto di questi dati. Istituiamo un tavolo permanente presso il Ministero dell'Economia che studi queste nuove forme di creazione di ricchezza perché noi dobbiamo capire in che modo dobbiamo recuperare questo valore che è nostro e in che modo questo valore può essere redistribuito. Queste sono nuove forme di prelievo che occorre studiare anche per una questione sempre di giustizia fiscale perché le ricchezze che vengono prodotte e che vengono drenate quotidianamente dal nostro Paese sono enormi. Sono enormi. Una parte minima anche viene assoggettata in posizione fiscale all'estero un'altra parte non viene per niente assoggettata a nessun tipo di imposizione. Questa è una cosa che noi abbiamo chiesto. La risposta spesso è stata, ma nella delega comunque sono previste delle misure, degli articoli che ci accompagnano verso la Global Minimum Tax. Ma giusto per chiarire, la Global Minimum Tax è un'altra cosa, la condividiamo, riguarda la tassazione ordinaria delle società e quindi è quel principio che tutti condividiamo per il quale le società, anche estere, comunque devono pagare le imposte ordinarie con un minimo, un pavimento minimo, negli Stati in cui producono il reddito. Però quella è l'imposizione ordinaria sulle società. Sarà molto difficile da applicare in Italia perché per poter applicare un'imposizione di questo tipo la base impunibile deve essere omogenea in tutti i paesi e in Italia purtroppo la base impunibile è molto complessa e quindi è molto difficile rendere la nostra base impunibile omogenea a quella degli altri paesi. Però è giusto andare verso quella strada. Ma questa è un'altra cosa, ma è un'altra cosa non per me, è un'altra cosa anche per l'Ox, ad esempio, perché infatti ha previsto due pilastri tra le varie strade e la Global Minimum Tax riguarda il secondo pilastro il cosiddetto Pillar One, invece, il primo pilastro che dovrebbe riguardare la tassazione dell'economia digitale in realtà su questo, quindi anche l'Ox si considera una cosa completamente diversa, su questo non c'è assolutamente nulla perché c'è l'interesse di grandi paesi, ad esempio come gli Stati Uniti a non andare avanti su questo tema perché molte delle società che fanno questo tipo di lavoro, ripeto, sempre e legittimamente hanno sede negli Stati Uniti e c'è un interesse perché non ci siano forme di prelievo su queste società. Ora, siccome ovviamente non si vuole criminalizzare nessuno e ci mancherebbe altro, il progresso porta anche tante cose buone come cose cattive, però porta anche democrazia possibilità di scambio di informazioni, di comunicazioni il progresso ci ha sempre fatto stare meglio se gestito bene in questo caso comunque ci sono nuove forme di produzione di reddito e ricchezza noi non possiamo attendere, e questo lo dice in realtà già anche l'Europa non possiamo attendere quelli che saranno gli orientamenti ad esempio di Ocse o comunque di organismi internazionali perché nel frattempo ci stiamo impoverendo ci stiamo impoverendo e nel frattempo invece all'interno del nostro paese si generano e drenano ricchezze che non rimangono qua e non vengono neanche soggettate qua ad imposizione quindi sul tema dell'attestazione dell'economia digitale non c'è assolutamente niente ed è uno dei motivi principali per cui non posso considerare una pagina storica la proposta di delega perché si ragiona comunque sugli stessi schemi gli stessi identici schemi di 50 anni fa e il mondo in 50 anni ovviamente è cambiato ma l'aspetto più importante è che il mondo cambia ogni giorno continuamente negli ultimi anni grazie appunto alle tecnologie un altro aspetto che riguarda una modifica che è stata introdotta alla proposta di delega in Senato io qua non vedo colleghi del centro-destra che provengono dal meridione però vorrei anche metterli un attimo in guardia perché ci si è approfittati della delega fiscale per introdurre quella che è la parte che è l'aspetto più pericoloso dell'autonomia differenziata nei vari convegni sull'autonomia differenziata giustamente si parla spesso dei temi dei settori insomma che verranno riguardati dalla proposta di legge del ministro Calderoli si parla meno di quella che in realtà è la vera polpa della proposta di quelli che sono gli intendimenti soprattutto della Lega, del ministro Calderoli su questa proposta di legge la vera polpa è la compartecipazione da parte delle regioni al gettito dello Stato riferito alle imposte sui redditi prodotti in quelle regioni quella è la vera polpa perché tutti sappiamo che ci sono regioni più ricche che hanno un prodotto interno lordo di gran lunga superiore ad altre regioni e quindi avanzeranno come è stato già fatto in passato dalle proposte nella delega si offre una strada un po' più spianata perché si apre la strada alla compartecipazione in questo caso soltanto dell'IVA quindi alla compartecipazione regionale dell'IVA prodotta sui territori regionali questo è un aspetto molto pericoloso perché quello che produrrà se dovesse andare avanti sarà una sperequazione e una iniquità tra regioni del nostro paese questo senza neanche prevedere una garanzia minima che è stata chiesta dalle opposizioni con degli emendamenti di un fondo di perequazione un fondo di solidarietà come già in realtà esiste per i comuni cioè quel fondo che consente comunque ai comuni per quanto riguarda i comuni consente ai comuni che hanno minori entrate fiscali perché magari hanno meno case vacanza faccio un esempio quindi incassano meno IMU grazie a questo fondo di solidarietà questi comuni possono vedere compensati questi minori incassi e quindi provvedere a sostenere quelli che sono i servizi che i comuni offrono ecco si doveva fare almeno una cosa simile anche per le regioni quindi prevedere un fondo di perequazione anche per le regioni invece sull'articolo 13 in particolare perché mi riferisco a quello sul nuovo articolo 13 non c'è niente di tutto questo e questo è un aspetto che volevo evidenziare Presidente perché ritengo sia molto pericoloso sul catastro visto che ne ha parlato il relatore il collega Gus Meroli allora è vero che l'Europa ci chiede da tanto tempo di cercare di spostare diciamo l'imposizione fiscale dal reddito da lavoro verso quello che è il reddito da patrimonio in particolare ovviamente per l'Italia ci si riferisce al patrimonio immobiliare però è innegabile che ci sono delle iniquità sull'imposizione del patrimonio immobiliare in Italia è innegabile che ci sono proprietari di immobili di pregio nei centri storici delle città che hanno un'imposizione fiscale su quei beni nettamente inferiori rispetto a proprietari che invece magari hanno immobili di valore modesto nelle periferie e pagano imposte alte per il semplice fatto che quegli immobili di pregio nei centri storici hanno dei valori presentano dei valori catastali che sono comunque obsoletti, bassi e quindi si pagano le imposte in base a quei valori obsoletti, bassi mentre chi ha acquistato un appartamento nuovo nell'estrema periferia ha valori catastali aggiornati, alti e paga imposte maggiori ma non è solo questo il punto quello che noi abbiamo proposto è un'altra cosa ancora diversa l'aggiornamento del nostro sistema catastale serve anche per tutela dei proprietari degli immobili io penso e faccio spesso l'esempio di chi magari ha lavorato tutta una vita come lavoratore dipendente, dipendente pubblico ha avuto una piccola impresa e con i risparmi di una vita è riuscito a realizzare una seconda casa ad esempio anche una terza casa perché in Italia la casa è il bene principale su questo le nostre misure e non le parole hanno dimostrato quanto noi tenessimo alla casa il super bonus una su tutte però per quanto riguarda l'aggiornamento dei dati catastali ora in questo momento ci si ritrova in molte situazioni in cui ci sono questi ex lavoratori che con il risparmio di una vita sono riusciti ad acquistare a realizzare una seconda o una terza casa ma adesso con una bassa pensione non riescono a sostenere quelle che sono le spese fiscali su quella casa quindi perché serve l'aggiornamento dei dati catastali con la interoperabilità delle banche dati perché in questo modo si consente di mettere insieme quelle che sono le condizioni effettive economiche familiari dei proprietari per cui ad esempio un pensionato che ha una pensione di 1000 euro e non riesce a sostenere i costi della casa che ha costruito che ha realizzato che ha acquistato con un risparmio di una vita possa avere degli adempimenti delle imposizioni fiscali minori grazie al fatto che lo Stato sa che la sua condizione effettiva economica non gli consente di sostenere queste spese in quest'ottica noi soprattutto in quest'ottica chiediamo l'aggiornamento dei dati catastali quindi dati catastali che devono essere messi insieme a quelle che sono le condizioni effettive dei proprietari un ultimo appunto perché ovviamente di questa delega si potrebbe parlare come abbiamo fatto per giorni perché le misure e le proposte molto contraddittorie però introdotte sono tante in una modifica che è stata proposta sotto forma di ammendamento e accolta dal governo si parla di detassazione delle premi di produttività degli straordinari delle tredicesime giusto a scanso di equivochi presidente di equivoci abbiamo sentito parlare di detassazione un po' anche dei colleghi della minoranza hanno parlato di detassazione insomma promuovendo quello che era il loro emendamento non è una detassazione è una proposta sempre di una imposta sostitutiva l'ennesima imposta sostitutiva su premi di produttività straordinari e tredicesime che non è neanche detto che convenga perché questo poi lo si dovrà vedere in base a quella che è la liquota determinata perché ricordiamoci che i lavoratori dipendenti gran parte delle volte hanno la liquota più bassa dell'IRPEF che è il 23% ma pagano una liquota effettiva ancora minore perché ci sono le detrazioni per lavoro dipendente le detrazioni per familiari a carico quindi in realtà non è una detassazione ci sarà una liquota piatta e bisognerà vedere se davvero questa liquota piatta sarà conveniente rispetto a quello che già pagano i lavoratori dipendenti io presidente ho elencato soltanto alcuni perché sono tanti degli aspetti contraddittori di questa proposta di riforma fiscale credo e ribadisco che non si tratta di una pagina storica io credo che mentre il governo preparerà i decreti legislativi per la declinazione di questa legge quadro nella realtà il mondo cambierà ancora e probabilmente ci ritroveremo tra pochi anni e a questo punto lo spero a dover rimettere mano alla riforma fiscale a fare magari una vera nuova riforma che possa durare qualche anno in più grazie presidente